attenzione ben ritrovati cari amici sul mio canale marcelo chi nicolai una buona domenica a tutti voi domenica che non comincia molto bene perché i giocatori hanno questa brutta abitudine di andare nelle loro nazionali andarsi a sfogare su ciò che non gli piace all'interno dei loro club è successo a tanti questa volta è capitato a dusan braovic che dal ritiro alla nazionale serba anzi dal ritiro dopo la partita giocata nazionale serba contro la svizzera si è un po sfogato cioè ha manifestato i suoi mal di pancia da juventus che non sembravano esserci perché se andate a rivedervi una intervista rilasciata da dusan braovic ad asom non più tardi di un mese un mese e mezzo fa aveva detto che lui si trovava molto bene con tiago motta che adesso posso esprimermi meglio di prima mi sto trovando a mio agio in questo nuovo stile di gioco perché più adatto le mie caratteristiche dice con allegri mi sono sempre messo a disposizione ho fatto con piacere tu quello che mi ha chiesto però come dire qui mi trovo medio con tiago motta ritrovi bene dopo quella dichiarazione trascorre attenzione sentita bene in mezzo cos'è stato ieri sera cosa ti dice ieri sera quando un giornalista serbo gli chiede quanto ti cambia giocare con un altro attaccante a tuo fianco lui dice mi permette di sfruttare meglio le mie qualità perché dice che adesso gioco a fianco con mitrovic e mi trovo molto bene dipende però anche dall'allenatore con la serbia non sono obbligato a fare tanti compiti difensivi la mia struttura fisica non mi permette di correre così tanto altrimenti non sono fresco in finalizzazione 20 anni giocare così per me è più facile praticamente sta dicendo che non si trova bene con ciego motta ma preferisce giocare nella nazionale di stoico vc perché l'allenatore gli fa avere meno compiti difensivi ascoltate bene adesso allora diciamo anche una cosa allora lui ha giocato in nazionale serba ha fatto 31 presenze 13 gol in totale 30 presenze lui non segna nella nazionale serba dal 27 marzo 2023 dopodiché la nazionale serba ha giocato dieci partite dieci partite l'ultima ieri sera nation league con la serbia e lui non ha segnato ha mai fatto gol per dieci partite non ha fatto gol così come gli capita la juventus che fa gol a non segna e poi sbaglia i gol più facci davanti a portavuota col cagliari no anche con altre squadre è così non segna non segna però la colpa è dell'allenatore è sempre colpa dell'allenatore prima era allegri adesso è tiago motta tiago motta che al di là vi ho sempre detto delle dichiarazioni di facciata dire bravissimo si impegna trascina il gruppo sempre disponibile a fare tutto cosa volete che dire così lui non racconta esattamente come è giusto che sia tiago motta non racconto tutto quello che avviene in campo sotto non ti sta manifestando esattamente il suo pensiero su dusan bravo perché quello che vediamo noi dusan bravo vici lo vede anche allenatore se dusan bravo vici non viene sostituito nel derby mette il muso lungo ma perché sa che sono allenatore non è soddisfatto quando sbaglia un gol fatto sottoporta e l'allenatore allarga le braccia s'arrabbia si arrabbia come ci arrabbiamo noi quando vediamo sbagliare dei gol così facili a un giocatore cazzo danno da 80 milioni è stato valutato 80 milioni prende al momento 10 milioni e ne prenderà a partire di 25 12 milioni viene praticamente pagato come punto player che non è che non è che non è lautaro martinez al alla all'inter prende meno di lui ed è stato capocannoniere l'anno scorso quest'anno segna poco anche lui è in crisi però prende meno di di dusan bravo vici che non è più capocannoniere da quando ai tempi della fiorentina e io dico ma non ti andava bene molto non ti va bene però dici che ti va bene stoico vici dove però non segni da dieci partite però dici che viene messo la condizione ideale per giocare perché anche il compagno a fianco come se alla juve non avesse ildiz francesa o ea che gli danno i palloni che gli improvvano a mettere i palloni cioè con meiner non c'è i compagni a fianco che gli danno due aiutano nel suo gioco per soprattutto che lui non riesce non può correre così tanto allora questo mal di pancia significa che lui ha già capito che la juventus a cominciare proprio da tiago morta non è soddisfatta di lui e sta già pensando al sostituto in testa come vedete ci hanno david dell'il ci hanno zirze ci hanno dei giocatori nella testa per sostituire dusan bravo vici questa cosa lui l'ha recepita chiaramente adesso incomincia a manifestare sui mal di pancia mal di pancia che sarebbe meglio chiarire meglio chiarire perché questa situazione ragazzi vi ho sempre detto da tempo guardate che con dusan bravo vici finirà come con chiesa stessa identica cosa sperando appunto di non dover arrivare a doverlo cedere a zero quindi ci si accontenterà adesso lui ha bilancio per 35 milioni ci si accontenterà anche di quelle cifre lì se qualcuno lo volesse prendere perché quest'estate quando andranno a cederlo sarà l'ultimo anno di contratto di bravo dice chiaramente all'ultimo anno di contratto non tutti sono disposti a spendere chissà che allora la juventus non potrà più chiedere 50 60 milioni dovrà accontentarsi anche di 30 farà anche una piccola minusvalenza non è affatto con chiesa perché purtroppo loro non vogliono rinunciare a quei 12 milioni poi sarà anche difficile venderlo perché anche se tutto si accontenta di prendere meno sul cartellino poi c'è lui che dovrà mettersi d'accordo con la nuova società su quanto prendere di ingaggio è abituato ai 10 12 milioni di aiuto e chiedere anche molto meno prepariamoci al peggio con dusan bravo vici ragazzi ve lo dico da tempo ve lo ribadisco soprattutto questa mal di pancia sfogato insomma avete capito io da quest'estate è che vi dico che quelli che facevano io vi ho sempre detto che intanto quelli che fanno i gruppetti che vanno contro l'allenatore io questi qui li manderei via a seduta stante chiunque sia l'allenatore è chiunque sia l'allenatore perché vuol dire che tu sei disonesto sei disonesto nei confronti dell'allenatore nei confronti della società che ti paga e nei confronti dei tifosi che ti tiffano se tu fai queste cose qua e me i disonesti non piacciono prima cosa seconda cosa tu dovresti solo vergognarti di chiedere 12 milioni dopo che ti comporti in questa maniera qua non segni ma ma io veramente non lo so ma ma provo solo io a vergogna andare a chiedere soldi se non so fare una cosa io non mi non mi presenterei mai in una cucina a chiedere a chiedere non lo so 3000 euro se non so fare neanche quattro piatti di pasta asciutta non me lo che non me lo penso non me lo penserei mai di fare una roba del genere io questi qua chiedono e milioni di euro come fossero bruscolini la juventus qua tra una roba l'altra ha speso 90 milioni che io ero titubante ma non c'era altro in quel momento lì non c'era altro stato contentato purtroppo il becca morto è stato contentato perché c'ha anche lui le sue colpe c'ha anche lui le sue colpe che non sa gestire anche gli altri non sa mandare in gol gli altri abbiamo visto anche con ken abbiamo visto cioè inutile tornare a parlare del becca morto però quest'estate ve l'ho detto questo vlaovic qua perché ci sono ci sono le 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 cose le le è spaccato in due il coso giumentino sono più quelli contro vlaovic che quelli pro vlaovic io ho sempre dato più ragione a luca totti che saluto se mi vedrà un giorno un giorno ciao luca totti ciao lucone bacioni lucone che per lui è un pippone invece c'è nati per vincere che per lui è è un non capiamo un cazzo di calcio che per lui è un un dio no vedete che ognuno la pensa a modo suo io sono sempre stato video nella via di mezzo perché a me secca anche dare dare no e colpa al giocatore perché dico volevo vederlo con un altro allenatore adesso cominciano i mal di pancia anche con tiago motta però una cosa devo dirvi che io ve l'ho sempre detto questo qua gli devi accostare un'altra punta una seconda punta come gioca l'inter diciamo con una punta e una è una seconda punta gli metti il trequartista dietro ve l'ho detto centrocampo a rombo centrocampo a rombo e davanti ti metti gli metti due fissi non lasciare il dice sulla sinistra lì da solo o consenso sulla destra li metti blauvic è uno accostato un il dis che faccia la seconda punta la seconda punta o sennò gioca col 4321 non lo so così albero di natale come 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 gioco come giocava ancelotti nel mila hai capito così trequartista 42 però il dice c'è il dice o con senza o li devono stare vicino perché questo qua non è ve l'ho già detto anche l'altro giorno non ha non ha la carisma non ha la forza di sostenere un attacco della juventus perché non è treseghe questo qua non è ronaldo non è manzukic non è iguain e questo qua è un giocatore un giocatore normale un giocatore che ogni tanto fa qualche gol no strepitoso e dice porca puttana come 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 di bala sapete ha quei colpi di campione però sono mezzi giocatori e per la vita perché caratterialmente caratterialmente o umanamente o anche fisicamente e sono così sono così sono caratterialmente non riescono a fare il salto di qualità o per l'impegno o perché sono dei bimbi minchia adesso cominciarono per i coglioni anche tiago motta ve l'ho sempre detto le mele marce sono le prime che devono io questo qui lo cederei anche a gennaio è all'il vado all'il gli dico ti do lui e tu mi dai david facciamo cambio alla pari alla pari non c'è nessuno pertanto con questo qua abbiamo già visto che un progetto tre quarti fallito lo dai fai scambio con vai a lì gli dici ascolta gennaio a me serve uno questo qua facciamo scambio alla pari e non può dire di no è perché tu sei sotto contratto dell'avvento e tu vai dove cazzo ti dico io perché tu prendi 10 12 milioni fai quel cazzo che ti dico io se no ti metto a scopare il piazzale fuori e ti umilio perché io la farei così perché dopo io io tante cose non riuscirei farle magari le dico però non riuscire fa però dopo se mi fai girare veramente i coglioni il piazzale fuori vai a scoparlo e ti mando fuori e calci nel culo a scopare le piazzale a tirare su e nel dopo partita le bibite quelle robe la tu sei sotto contratto fai quel cazzo che dico io questi non hanno non hanno non hanno remore non hanno non hanno vergogna e poi come di come detto anche io nel video dell'altro giorno vanno mi dà fastidio quando vanno in nazionale a sfogarsi no ma non c'è le palle di dirgli in faccia all'allenatore ascolta no o parlare anche parlare senza sbraitare senza fare il bimbo minchia andare lì suolta mister possiamo no si parla prima si parla poi si agisce ma prima si parla o si parla con la società no questi giocatori sono uno di fatti cosa vi ho detto sempre cosa vi ho detto sempre io qui dietro qua non scrivo nessun nome non faccio scrivere nessun nome perché sono stato più di una volta più di una volta sono stato scottato e l'ultimo che di cui sono stato scottato stato chiesa lo ricordate quando girava quella stac a stac chiesa più altri 10 io pensavo che chiesa fosse il futuro della juventus il futuro capitano della juventus avete visto come andata a finire contro l'allenatore contro la società un casino mantenuto anche quello rotto non riusciva dopo c'è un disastro e questo qua è il suo è il suo è il suo compagno il suo compagno ve l'ho detto da quest'estate da quest'estate attenzione a vlaovic perché quando faceva già il gruppetto con chiesa ve lo dicevo già l'altranno che i gruppetti non li voglio non voglio quelli che vanno contro l'allenatore fai quello che ti dice l'allenatore poi a fine stagione ti saluti e vaffanculo perché sennò comprometti una stagione a questi qua non gli frega un cazzo gli frega i soldi allora cosa devi fare ve l'ho sempre detto io questi giocatori qua per punirli devi fare una cosa sola toccargli i soldi se gli tocchi i soldi vanno fuori di testa fanno tutto quello che vuoi toccargli i soldi un agnelli una volta fatto una ho fatto una cosa è per che si era incazzato si era rotto i coglioni è andato giù in spogliatoio di quello che ho sentito e gli ha detto non vi pago è non vi pago mi pare che era l'anno di pira perché facevano i coglioni guardate che se mi pare che era il fatto di non arrivare in ciappi guardate che sono arrivati in ciappi non vi pago non vi pago è perché era nero agnelli come il coro quell'anno lì mi pare che era l'anno di pirlo l'anno di pirlo l'anno di pirlo è andato giù e la detta di più che il porno non so se era l'anno di pirlo o il primo anno di allegro adesso non mi ricordo è andato giù agnelli e devi fare così devi toccargli i soldi i soldi allora qualcosa riesci a combinare perché con le belle questi qua ve l'ho sempre detto con la carota non risolvi più niente con questi giocatori qua per quello io rivolevo conte torniamo sempre lì sempre lì perché con conte questi mal di pancia non vengono fuori non vengono fuori con conte non vengono fuori te l'assicura che non vengono fuori questi mal di pancia magari le cose le saprai anni dopo anni dopo come quagliarella vucinici quelle robe l'anno e però non trappella niente con conte sarà sarà che conte non lo so cosa a lui ma porca di una miseria e voi direte di nuovo e micheleone di nuovo con conte che poi lui è una cosa diversa dagli altri allenatori lui ha una cosa in più degli altri allenatori parlo qui in italia parlo qui in italia lui riesce a fare quello tutto quello che gli altri allenatori non riescono a fare a quello quella quel coso in più è inutile nonostante che io lo stramaledico perché è nato ad allenare quelli là e lo stramaledirò sempre non lo perdonerò mai su questo non lo perdonerò mai però era lui il coso queste cose qui con lui non sarebbero successi non sarebbero successi ve lo assicuro questa acqua comunque questa è da sistemare questa storia di vila ovvi c'è perché se no andiamo avanti come dice chirico e in un bagno di sangue con quello lì è io ve lo ripeto saprei cosa fare ma lasciamo perdere bacione a tutti i mali brutti iscrivano al canale like campanellina mi pare che oggi abbiamo parlato di tutto altro non c'è da parlare mi avevo segnato qui sparito il fogliettino mi ero segnato qui questa mattina abbiamo parlato dell'italia che sto ancora godendo portogallo ah sì ho sentito che l'inter è su chiesa allora io lo so che in zaghi fa miracoli perché riesce a mettere in piedi giocatori che sono svalutati su questo bisogna veramente dare atto a in zaghi e non so se riuscirebbe anche con chiesa perché quello lì ormai per me è un mezzo giocatore finito che quello l'ha ormai se non riesce neanche farlo correre se non riescono neanche farlo correre più a liverpool per me perché hanno fallito anche con arthur a liverpool e liverpool è primo non potrete dire no che il liverpool non è il manchester united il liverpool è liverpool quindi se falliscono anche loro non lo so vedremo questa storia di coso perché marotta sapete che va su su quelli che costano poco parametri zero è costato un cazzo 12 milioni l'abbiamo regalato ma cosa dovevi fare di chiesa cosa dovevi fare con chiesa impacchi cosa dovevi fare con chiesa hai preso quello che preso 12 milioni pagabili in quattro anni pensate che affarone e va bene sono curioso questa su questa notizia gli starò dietro perché sono curioso di vedere se anche quello sporcaccione perché quello lì è un altro sporcaccione andrà dai suoi amici perché lui sta bene lì e quei giocatori come che hanno i mali di pancia come i chiesa quelli stanno bene lì perché sono sporcaccioni e stanno bene con i sporcaccioni passaportati pignorati no dopatti cartonati no no pillolati no ne hanno di soprano ci vediamo ragazzi bacione a tutti i vari brutti e ci vediamo la prossima iscrizione al canale mi raccomando